Il numero l'ho preso sulla televisione, ho subito telefonato e sono stata subito coccolata. E ho quasi 90 anni, che è poco. Ho chiamato perché soffrivo di solitudine e mi ha risposto una brava ragazza, mi ha detto stia calma, stia buona, se prenda un bicchiere d'acqua, perché ero proprio distrutta, si inghiozzavo. Lei ci può chiamare anche la notte. Ci pensiamo noi a lei, non è sola. Mi avete mandato veramente della gente brava. Mi fanno compagnia, mi fanno passare due o tre ore bene, pura arrabbiata, con le carte, perché loro giocano a carte. Poi mi tocca farle vincere, se non ci vengono più. È quello che ho visto in televisione, che una volontaria fa la carezza alla persona anziana. A me mi mancavano e sono venute loro. Sono i miei angeli.